san giovanni maria vianney il prete non è prete per sé lo è per voi se comprendessimo bene che cos'è un prete sulla terra moriremmo non di spavento ma di amore la vita di san giovanni maria vianney patrono dei parroci e tutta racchiusa in questo suo pensiero noto come il curato d'arsa nasse l'otto maggio 1786 a dar di lì vicino a lione i genitori sono contadini e lo avviano al lavoro nei campi tanto di giovanni arriva all'età di 17 anni ancora analfabeta ma conosce a memoria molte preghiere e vive un forte senso religioso intanto in francia soffiano i venti della rivoluzione giovanni si accosta al sacramento della confessione in casa non in chiesa grazie a un sacerdote che non ha giurato fedeltà ai rivoluzionari lo stesso viene per la prima comunione a 17 anni avverte la chiamata al sacerdozio se fossi prete vorrei conquistare molte anime dice la strada non è facile perché egli ha difficoltà con lo studio e soprattutto con il latino in questo difficile cammino è fondamentale la per lui la presenza di don balli che gli fa da scuola in canonica lo via al seminario lo accoglie quando viene sospeso dagli studi per incapacità e infine riesce a far sì che sia ordinato sacerdote il 13 agosto 1815 tre anni dopo nel 1818 viene mandato ad ars un piccolo villaggio abitato da 230 persone non c'è molto amor di dio in quella parrocchia voi se ne metterete gli dice il vescovo mandandolo pienamente consapevoli di deve che deve dare che deve con pienamente consapevole che deve andare a incarnare la presenza di cristo dedica tutte le sue energie alla cura dei fedeli fonda un istituto per accogliere gli orfani visita gli ammalati e va a trovare le famiglie i contadini nei campi ma è nel sacramento della confessione che la missione del curato d'ars si esprime al meglio sempre disponibile all'ascolto e al perdono trascorre fino a 16 ore al giorno in confessionale giovanni maria veglia e digiuna mangia lo stretto necessario patate d'esse scondite a volte anche ammuffite e dorme solo tre ore per notte per contribuire all'espiazione dei peccati dei fedeli vi dirò qual è la mia ricetta spiega un confratello do il peccatore una penitenza piccola e il resto lo faccio io al loro posto la sua vita di digiuni di penitenze di conversione non lasse indifferente satana che gli procura continue molestie di giorno e non lo lasse riposare la notte dopo cinque anni ars non è più la stessa tutti pregano donato interamente a dio e ai suoi parrocchiani mori il 4 agosto 1859 all'età di 73 anni all'ode di dio